Allora, siccome voglio già confermare la mia predominanza in questo gioco, mi sono chiamato capo Pokémon Spada sta iniziando e c'è un tizio con un ciuffo un pochino troppo lungo C'è i capelli sproporzionati Benvenuti nel mondo dei Pokémon, grazie mille signor... Tu? Il bello è che se tipo non clicco, lui rimane così Immaginatevi uno che si blocca così, tipo... Presidente? Va bene, questa è tipo la presentazione del professore... Oh mio Dio, non mi piace! Non voglio dire che è brutto, però... Sì, è brutto, è brutto Non c'è un Pokémon un pochino più carino? Mio Dio, che entrata! Alla faccia del professor Roak, è proprio la stessa cosa C'è, cioè... Come è dannazione facile abbattere un mostro così? Cioè, questo mi divora veramente tutto Pokémon Spada, perfetto Ehi, ciao capo! Ciao, mio suddetto Stai guardando l'incontro amichevole di mio fratello? Ah, ok, sì Il suo fratello è tipo il campione della lega di tutto il mondo dei Pokémon Capo, sbrigati! Dendel sta per arrivare Allora, intanto datti una calmata che io sono il tuo boss Allora ragazzi, devo ricordarmi di licenziare Hope Comunque... Eccoci qua, oh mio Dio Cioè, raga, è cambiato non tutto di più Salve, ciao mamma Capo... Mamma, non mi chiamare così anche a casa? Dov'è la borsa? Ah, sta in camera mia Va bene, quindi vivo in un container Guarda che... Che casa c'ho, ce l'ho tipo un rettangolo Eccola qua, penso che sia lei C'ha pure il cappellino Va bene, allora mamma, ciao Ci vediamo tra tipo qualche anno Addio Ah, non c'è qua la porta? Mi sono sbagliato Di qua? Ah, capo Non ti sembra un po' troppo grande quella borsa? Ti ho detto datti una calmata Salve signore, lei è il primo signore che incontro La tecnologia ha fatto passi da gigante Tipo te sei enorme Ora puoi lottare Va bene, mi fa piacere Però nessuno te l'ha chiesto Capo, ancora che mi rompe Ah, ma sei un altro? Io non l'avevo visto, raga Allora, entriamo nelle proprietà degli altri senza permesso Tipo qua dentro Quando mi danno lo starter? Ce l'ha lei lo starter, signora? Ah, il bambino se n'è andato Per fortuna Ciao Hope Vedo una città fantastica là dietro Dai, fiondiamoci alla stazione Allora, posso già avviarmi verso la città? Mi sa che quelli lì stanno aspettando Tipo il fratello capolega Va bene, non posso Scusami Quanto rompe Allora Salve Eccolo, sta là tipo Brasbury Questo è Brasbury, ragazzi C'è Dandel Già me lo sono imparato il nome Eccolo qua Molto egocentrico Va bene Tanta gente che lo idola Idola tra Non mi ricordo come si dice Perché si tocca la pancia Cioè una sorta di Tipo, non lo so Erotismo Il mio fan numero uno È venuto fin qui apposta per me Ma abita qua vicino Non ha fatto questo grande sforzo E tu, il tuo sguardo ispirato Mi dice che devi essere capo Sì Sì Quindi comportati bene Sono io capo Hope non fa che parlare di te Lo sai? Eh, ci credo Io sono il più grande campione Della storia di Galar Va bene Però intanto stai calmo Oppure te Va bene Lui è tipo l'invincibile Dandel Però arrivo io che in tipo In tre giorni Mi faccio una squadra Della madonna L'ho batto E gli distruggo tipo anni di allenamento Ah, finalmente ci dà i Pokémon Non è il professore Ok, Grookey Eccoci qua Scorbanni E Sobol Mio Dio che bello Sobol Penso che abbiate capito Chi prendo Mio Dio No Sobol Non è successo Sobol Tranquillo Che Che bello che è Sobol Eccoci qua Cioè ma secondo te Ma come fai a non scegliere Sobol Cioè ma pure dalla presentazione No? Te lo fanno vedere Che è tipo stupendo Oddio Le evoluzioni Mo vediamo Ecco Scegli Scorbanni Ah ma scegli il tipo debole Ok Sei un campione Mi fa piacere Va bene Dai tante cose Poi credici Mi raccomando Che tipo ti batto in tre secondi Ok La notte inizia La nostra prima lotta Va bene Ciao Fai poco ormatto Ma aspetta Tu hai due pokemon Ma veramente Eh ma infatti Sei un po' Un bastardino Lo sai? Va bene Comunque Va bene Facciamo che tipo di Non c'ho neanche la mossa di tipo acqua Quindi perché hanno fatto questa Cafonata Vulu è andato giù A forza di capocciate Ciao Vulu Ho imparato pistol acqua Mio Dio Com'è finito questo tipo Raga ma so Tipo più veloce io Perché sono Ok sì Sto a un livello avanti Però Ok Va bene Sobol è veramente arrogante Dendel stava quasi per mandare in campo Charizard Ma lo sai che Raga Dendel è infame Si vanta E vuole tipo ararci Sto a livello 6 Bosco assopito Va bene C'è un Vulu che si è perso qua dentro Ok Allora La mia prima entrata è nell'erba alta Vediamo un pochino chi C'è Mi devo preoccupare Ok no Mio Dio Ok per fortuna fa sbrattare Squovet Allora Non voglio neanche imparare il tuo nome Veramente Mi fai ribrezzo Ma veramente C'ho l'attacco aumentato E l'attacco speciale diminuito Mio Dio Che due Convulsi è perso qua dentro E lo stiamo andando Scomparso completamente Ho paura Dove vai Non lasciare È scomparso Ma perché non mi aspetti Allora Con calma Perché Mio Dio Au Au Mio Dio Che paura Ok Questa nebbia è davvero sinistra Infatti Neanche te vedo Ehm È veramente preoccupato Ehm Mio Dio Se mi appare qua Zazia Hanno Zamasenta Ehm Oh mio Dio Oh mio Dio Cosa Perché ha le trecce O sono io tipo Che vedo male Au Ma in che senso No raga È tipo la forma prima Io non la sapevo sta cosa Ma che mi stai a dire No raga È troppo Troppo strana sta cosa Non si sa il nome nel livello Ma che sai Missing No Finalmente ti Allora io ti lancio tipo un pistola Acqua Però Non mi Non mi aggredire Ah Proprio così Capo Non si vede niente Tranquillo Non ti preoccupare Per me Io sono tipo Immorta Ehm Io continuo Ruggito Scusami Ti fa lancio un ruggito così Che ne pensi Niente La mossa non è effetto Azzo Scusa Ok sono Morto Hop Capo Eh Arrivi sempre dopo Ok comunque Per chi non lo sapesse Zachan e Zamasenta Sono completamente sconosciuti Agli umani Diciamo Infatti non si sa chi era Mio Dio Altro che il fantasma di prima Missing No Dannazione Sei tu Eccomi Hai detto A tua madre Non mio Dio Che rompi Scatole Oh Grazie mamma Che mi hai dato gli sordi E penso che possiamo andare Ciao mamma A mai più Mio Dio Già a livello 6 Ma che sei impazzito Prima erano a livello 2 Rocky D comunque Quello lì Che si evolve in Corviknight Ecco Mi ero scordato Corviknight Ah questo qui si evolve In una specie Tipo di coccinella gigante Quindi Direi che posso passare Non lo so Entomo blocco C'è già entomo blocco Ok vabbè Comunque non mi fa niente Mi dispiace Sobol impara Legatutto Sobol Non mi imparare queste mosse Però Cos'è legatutto Va bene Allora Facciamo finta di niente Io scappo È pieno raga Comunque che bello Si vedono i pokemon Madonna mia Quanto Quanto gioisco Non mi toccate Due antiparalisi Perfetto Non male Questa volpe Ora è giusto vederla Quanto è bella È bellissima raga Però non Non mi fa impazzire L'evoluzione Oh Non so come Nikit L'ho preso comunque Però non penso di volerlo In squadra Niente Sto dendel È veramente ovunque Sì Non era molto difficile Sta tipo a tre metri Charizard Perché ti devi avvicinare così Silenzioso Yampi Yampdi Come si chiama Yampede Yampede Tipo Yamper Yamper Non lo so Eccola qua La La Bonazza Sonia Va bene Chiamiamola Sonia Facciamo finta che si chiama Sonia Prepara dei pranzi al sacco Ok Mi fa piacere Bellissimo laboratorio Devo tipo andare Dall'attipase Da Flora comunque Che tipo Non ho capito Sua madre Raga Mi perdo le cose Yampere Ciao Mi perdo le cose E niente Mi bloccano di continuo Che vuoi te Torna pure quando vuoi Decido io quando tornare Grazie Te chi sei Oh mio dio Oh mio dio È bellissimo In teoria Io posso ricevere Il dono segreto C'è proprio lui ragazzi Sì avete indovinato Miao Però questo Miao È speciale Ok Si può Gigamaxizzare Si dice così Si dice così raga Non lo so Oh direi che abbiamo già Un pochino Migliorato il mio stile Perfetto Perfetto Ora ho pensato allo stile Dovrei pensare alle cose serie Ogni tanto Salve Tipo te Tutto ciò che si mangia Insieme ai propri pokemon È ancora più gustoso Va bene Tu sei tutto Tranne che Una persona seria A quanto pare Vorrei provare un qualcosa Di diverso da Corviknight Voglio essere un pochino alternativo Ecco Bimbo cosa vuole Guardalo Ah dio mio Tu non mi hai visto Tu non mi hai visto Oh po 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 Il primo allenatore raga Ed è un Marmocchio Non so se sia una buona cosa Marmocchio Squovet Ok già ti odio Marmocchio Squovet Oh mio dio Non puoi stare così Già che Non sono neanche arrivato Comunque cioè Veramente Sono un allenatore orribile Non prendo nessun pokemon Per il momento Ho soltanto Sobol Oh 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 Ma che vuoi Guardalo come viene lui Allora Ehm Yamper Ma Ciao Yamper Oh mio dio Che carino che sei Ma come faccio A rifiutarti Allora Yamper Ti do una possibilità Se entri adesso Ehm Ti tengo in squadra Però non Proprio Ok va bene Vole arrivare Vole venire con me Però l'evoluzione Non mi piace Sì raga Sono un allenatore Orribile Secondo me Arrivo da Dendel Con soltanto Sobol E lo batto comunque Eh però Signora Lei deve fare solo una cosa Mi deve dare il braccialetto Per gigamanti Maxizzarimento Ehm Grazie Ehm Oh mio dio Mio dio ragazzi Ho trovato una strada Segretissima Rivincita Ma guarda quanto sono forte Ma chi te la trova Una rivincita adesso Signori Hope vuole di nuovo perdere Va bene Facciamoti perdere Hope Voglio diventare Allenatore di Pokémon Più forte del mondo Certo Maledetto Nel frattempo Ha catturato un altro Pokémon Va bene Sobol Distruggili tutti Non lo so Per forza Scorpani Vuoi andare giù Tipo in un call No Niente Ehm Sei un geniaccio No Ho usato lo stesso identico attacco Una sfida all'ultimo Pokémon Lo sai che me ne rimangono quattro? Ehm Agitazione Va bene Oh mio dio Non posso mangiare le bacche Oh mio dio Ho perso No Che incontro incredibile Insomma Tuo fratello è un po' scarso Comunque Eh Ora mi resta solo una cosa da fare Ecco le vostre referenze Ah Ok Grazie Mi dai tipo Le cose per Ok Referenze Va bene Funziona così in questo gioco Mio dio Che cosa Fantastica Ma quella Che cosa Oh Vedo stelle che cadono Nella notte dei desideri Che cavolo è caduto Proprio dietro di me Mio dio Cos'è un Pokémon Che cosa Non te le prende solo te però Dai se ho stelle Sono giusto due Allora Ok Con le desi o stelle Posso far Dynamaxare i miei Pokémon Mi fa molto piacere Va bene Hop parla ancora a caso Dicendo parole insensate Allora Oh Finalmente Flora si è resa utile Posso dynamaxare i miei Pokémon Posso anche gigamanti Massimizzare Polsino dynamax Grazie mille Hai fatto qualcosa di utile Signora Flora Ok La desi o stella Raga Comunque Hop Veramente si casa Per troppe cose Io invece sono veramente impassibile Ok Ecco la stazione C'ero pure già entrato Tipo Sì Hop Ti ho visto Ok Arrivo Va bene Mia madre Ho trovato mia madre in stazione E mi dà un kit da campeggio Va bene Lo sai che Non mi dispiace Ok posso Grazie mamma Per la tenda Così a caso Va bene Ciao mamma Ci vediamo tra qualche anno Cioè ma veramente Il treno si è dovuto fermare Per un gruppo di Vulu Ma veramente Ma sempre a rompere le scatole Sti Vulu Oh raga Mi hanno bloccato già tre volte La strada Ancora con sti Vulu Ma mettili sotto No dai scherzo I Vulu sono bellissimi Le terre selvagge Almeno c'è una cosa buona Vedo un raggio Tremendo laggiù Va bene Sono molto curioso Penso che lo faremo proprio adesso Se tipo mi fate Oh Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Squoti Squoti Che caspita Cosa mi è Oh mio dio Ti lancio la pokeball Te la lancio in testa C'è un pdav Quello è un pdav Va bene Il pokemon che meno desidero al momento Penso proprio di si calco Vingul Guarda il secondo pokemon Che meno desidero Oh il terzo pokemon Che meno desidero Se io tipo vado qua Devo avere paura Allora siccome nessuno Mese fila Giustamente perché Tipo è uscito raga Due ore fa al gioco Facciamo che Lo sfido da solo A parte che ho già capito Che pokemon è Quindi Dovrebbe essere una caponata Allora Cioè tipo Mio dio Chi è questa gente Raga Io ero solo Che cosa orribile Ma perché proprio Il più brutto di tutti Doveva capitarmi Allora Vai boss È veramente enorme È arrivato il momento Boom Becca di questo Sobol Mega Iper Gigantesco Ok Dai na flusso Vai Penso che gli farò Tipo male Come non detto Perfetto Esploso Va bene Ah è il momento giusto Ma io non lo voglio Catturare Va bene Dai vai Boom Penso che Penso di farcela Non so ora Se possa fallire O no Vediamo Dai 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 che ce l'ho fatta Boom Ce l'ho fatta Sì Allora Sfidiamo questo Wooper gigante Che Mio dio Ok Wooper È la tua fine È arrivato Miao Sì Oh mio dio Oh mio dio Va bene Il verso evitiamolo E Ragazzi This is Miao Va bene Monete ovunque Comunque signori Se questo video Andrà bene Porterò un continuo Lineare Non lo so Comunque Un qualcosa Di abbastanza Simpatico Quindi niente Ragazzi Vediamo Ciao ragazzi Sfidiamo 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 Sfidiamo